Chiediamo un aiuto, è una cosa così molto improvvisata, ma se è così bravo e simpatico il maestro Elge di far parte dei nostri, saremmo onorati. Giorgio ha fatto uno dei grandi favori che poteva fare, cioè farci conoscere questo straordinario musicista che in qualche secondo già ci ha insegnato molte cose di come si sta su un balco, di come si suona. Grazie mille per la disponibilità. Allora questo è We Shall Overcome. Grazie mille. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.